La Villa Belfiore vi offre un'esperienza unica che conquisterà tutti i vostri sensi. Arrivati presso la tenuta, verrete catturati dalla ricca vegetazione che caratterizza il giardino e dalla comodità degli ambienti della struttura, e vi sentirete coccolati dal servizio impeccabile dello staff in grado di fornirvi le migliori proposte per il vostro evento. Per i festeggiamenti del grande giorno della vostra vita, la Villa vi propone diverse sale, quella del bosco, la sala dei fiori e la sala del melograno, in grado di adattarsi a ogni vostra esigenza di capienza dalle piccole cerimonie ai ricevimenti più numerosi. Nel Parco della Tenuta, popolato da bellissimi ciliegi, aceri, noci e deliziosi camminamenti contornati da profumate erbe officinali, avrete a disposizione la spaziosa veranda e la zona a bordo piscina, ideali per un party romantico sotto le stelle. Per una romantica conclusione della giornata, infine, potrete scegliere di soggiornare presso una delle incantevoli camere messe a vostra disposizione dalla location. Lo staff della struttura, attento a ridurre al massimo l'impatto ambientale delle attività della struttura, vi offrirà una vasta gamma di servizi, pensati per le speciali occasioni e pronti per essere personalizzati in base alle vostre preferenze e alle esigenze della vostra festa. Dagli allestimenti alla scelta di gustosi menu, ogni dettaglio sarà curato per offrirvi una giornata indimenticabile.